Allora, siamo qui nella Biplage con i tecnici del Comitato Regionale Veneto. Un pensiero sul cultural meeting? Beh, una bellissima festa, uno sport, veramente grandi prestazioni. I nostri ragazzi si stanno comportando veramente bene, siamo contenti di essere qui. Bene, ci stiamo preparando quindi per la settimana prossima? Sì, alcuni di loro saranno presenti a Settivogli a Roma e quindi questa è una tappa di passaggio, però nonostante questo ci stiamo difendendo. È bello anche il momento conviviale per i tecnici, quella Biplage. Notare la birra? Ritengo che sarebbe da riproporre a tutte le manifestazioni importanti a livello italiano perché si fa gruppo anche con i tecnici. Bene, grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti.